Ok, salve ragazzi, sto testando questa nuova inquadratura direttamente nella mia postazione principale che è anche quella che ho adottato perché ho le cuffie Non ci servono ancora, dicevo, io mi trovo molto bene a registrare qua quindi questa potrebbe essere la nuova postazione Reaction Unica pecca, siccome il monitor è qui quando io guarderò il video a cui sto reagendo come nella puntata di oggi, ovviamente voi mi vedrete di profilo in questo modo e sì, i miei capelli stanno prendendo il controllo della mia testa quindi finché non è troppo tardi registro questo video Ah, e piccolo spoiler che vi faccio mentre sto editando questo video i miei capelli sono peggiorati di gran lunga anche, quindi è troppo tardi E salve ragazzi e bentornati finalmente in questo nuovo video quest'oggi, come al solito, siamo tornati in una Reaction che mi avete consigliato voi questa volta me l'ha consigliato una persona soltanto in genere quando mi chiedete di fare delle Reaction sono sempre delle segnalazioni in massa di qualche video invece questa volta è stata un'iniziativa presa da un mio follower su Instagram che mi ha suggerito di reagire a questo video Spotify streaming on my 17, 17 years old iPod classic sostanzialmente questo ragazzo, Guy Dupont, presumo francese come vediamo dai primi secondi di video attiva lo streaming di Spotify su un iPod originale quelli vecchissimi perché di 17 anni fa era il 2004 l'iPod è uscito nel 2000 se non mi ricordo male l'inizio di vendita è uscito nel 2001 20 anni fa ragazzi, il 23 ottobre saranno 20 anni di iPod e lui su un iPod vecchio di quasi 20 anni ci ha installato Spotify e mi chiedo veramente come c***o abbia fatto perché non c'era internet, non c'era il supporto alle applicazioni so che negli iPod era possibile installare una specie di distro di Linux quindi presumo lo faccia in questo modo però mi chiedo il problema del Wi-Fi come lo risolverà non ne ho idea, mi sembra un video fighissimo per questo comunque diamo i meriti al suo autore, a Guy Dupont vi lascerò ovviamente il suo video in descrizione e questa reaction comunque includerà soltanto dei pezzi del video originale quindi se poi volete avere un confronto più dettagliato ovviamente andate a vedere il suo video che diciamo che ha reso possibile il mio tutto in descrizione detto questo io non voglio rubarvi altro tempo quando voglio parlare con voi guardo il monitor quando in realtà dovrei guardare là ma sono veramente curioso di vedere come questo ragazzo ha trasformato un iPod classic in un iPod moderno quindi mettiamo a schermo intero streaming from Spotify ah aspettate che qua devo magheggiare i sottotitoli this is an iPod from 2004 and if you had one of these back in the day you might notice that this one looks a little bit different decisamente this iPod can stream any song directly from Spotify it's got all of my playlists it's got my saved albums and artists it's got a regularly updated list of new releases and you can even search the entire Spotify clamoroso io spero che la maggior parte delle persone che mi seguono sappiano cosa sia un iPod questo penso di sì ma abbiano usato effettivamente un iPod nella loro vita per farvi capire i miei primissimi video erano realizzati sul mio iPod Touch di quarta generazione già io che comunque sono nato nel 2000 sono un po' troppo vecchiotto per questa roba nel senso che da ragazzino e da bambino utilizzavo l'iPod Touch che era già molto più moderno l'iPod Classic era il prototipo di lettore MP3 è stato il primo lettore MP3 della storia però il concetto appunto era che tu ci copiavi le canzoni dentro e te le ascoltavi offline proprio come fai l'MP3 non c'era ai tempi Apple Music, Spotify non esisteva il concetto di streaming perché internet era agli albori era troppo lento per permettere lo streaming addirittura di una canzone poi ovviamente l'avvenire dello streaming sui cellulari ha un po' ucciso questa categoria di prodotti l'iPod oramai non si rifila veramente più nessuno però è un gran peccato perché l'iPod è sempre stato un dispositivo dedicato alla musica quindi se tu veramente ci hai installato Spotify e hai modernizzato l'iPod rendendolo compatibile con Spotify online insegnami veramente proveremo a farlo anche noi sul mio canale perché è un progetto fantastico ah qua fa vedere effettivamente come si fa lui ha questo S-Pot è palesemente un sistema operativo custom modificato perché non ho mai visto un iPod originale con questo sistema però a quanto pare lui sta prendendo da Spotify e qua c'è anche il simbolo del Wi-Fi quindi è effettivamente così però io veramente finché non vedo come lo fa non ci credo ma come c***o hai fatto? musica applausi ok qua c'è anche la funzione cerca può addirittura cercare da Spotify guarda usando la ghiera oh 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 qua già comincio a capire qualcosa queste scritte sono del caricamento del kernel di Linux quindi come avevo previsto l'ha fatto con una distro modificata ma il Wi-Fi ragazzo mio dove l'hai tirato fuori? dove è che hai messo l'antenna del Wi-Fi di sto iPod? ah tu sei un pazzo praticamente qua dentro non c'è un iPod ok c'è un Raspberry Pi io raga questo video non l'ho visto ve lo giuro però vabbè così ha tolto la scheda madre dell'iPod e ci ha messo un Raspberry Pi nulla ha tolto eh sei comunque un genio però voglio capire come fai esatto esatto questo qua è un Raspberry Pi zero presumo Raspberry Pi zero e tra l'altro anche io avevo un bel progettino quindi Raspberry Pi zero non dico simile a questo ma in un certo qual modo sì ma ve lo racconterò in un altro video clamoroso ha fatto stare tutto dentro tutto dentro al case dell'iPod guardate questo era uno schermo presumo provvisorio anche il Bluetooth perché ai tempi non so se l'iPod classica avesse il Bluetooth effettivamente ah ok ha lasciato il jack delle cuffie originale dell'iPod ma non è collegato al Raspberry quindi il jack del cuffie non funziona ho modificato l'interruttore di blocco per fungere da interruttore di alimentazione ok ah ovviamente ha cambiato anche la batteria perché la batteria originale fatta per alimentare un iPod classic dispositivo molto basilare ovviamente per un Raspberry Pi non andava bene ha sostituito anche il display monocromatico con uno schermo a colori è vero perché il primissimo iPod aveva uno schermo monocromatico non era a colori hai creato un nuovo dispositivo dentro al case del vecchio iPod ormai dell'iPod classic come dentro non c'è più niente però chapeau cavolo come hai fatto? Chrome display with a full color screen I didn't really want to do this I feel like this build would have been even cooler if I could have figured out how to use the original display eh si questo si but I have to say the Spotify black and green looks pretty badass here I think my favorite new feature is the haptic feedback so rather than hearing that iconic clicky sound as you spin your finger around on the click wheel you now get tiny vibration pulses in your hand ah ha preservato anche l'uptick feedback interessante questo è modern for hardware I want to point out right away that the only piece of the original iPod I'm actually using is the case ok esattamente quello che ho detto l'unico pezzo che ho utilizzato è stato il case ma non poteva essere diversamente perché se no come fai Spotify non è nemmeno stato scritto per l'iPod originale questa è di fatto la nuova scheda madre del nuovo iPod classic hackerato il Raspberry Pi Zero che permette di fare veramente un sacco di progetti fighissimi in questo stile perché è piccolissimo io ce l'avevo da qualche parte lo si può inserire praticamente all'interno di qualsiasi cosa e quindi uno può cannibalizzare un dispositivo e riprogrammarlo tramite questa scheda esatto e costa soltanto 10 dollari peraltro quindi sono progetti praticamente alla portata di tutti ammesso che tu poi sappia come saldare programmare fare cose lui ha una scorta di Raspberry Pi Zero c'è chi per la quarantena si è fatto una scorta di pasta lui si è fatto una scorta di Raspberry Pi Zero 40 dollari per questo nuovo schermo ed entrava alla perfezione nel case dell'iPod molto interessante questo lui le chiama schede breakout ma è come se fossero degli adattatori che servono ovviamente per attaccare questo cavo flex che da quello che ho capito è responsabile della ghiera dell'input che era attaccato direttamente alla scheda madre del proprietario dell'iPod con questi breakout tu li puoi attaccare a qualsiasi altra periferica praticamente dipende da che breakout acquisti connettore lightning ok con questo esempio lo capirete meglio come vedete è composto da 8 pin tutti ravvicinati tra loro ma ovviamente ogni pin è responsabile di una funzione diversa ovviamente se io dovessi collegare questi pin a una scheda madre esterna è una bestemmia incredibile perché sono tutti ravvicinati ed è impossibile toccarne soltanto uno il breakout è una scheda che si attacca ipoteticamente al pin out diciamo compatto come in questo caso e dall'altra parte invece fornisce un ponte di tutti i vari pin però molto più distanziati molto più separati fra di loro in modo tale che poi sia più semplice andare a saldare ogni pin con il suo corrispettivo cavo non so se avete capito non faccio di lavoro l'informatico ho cercato di spiegarvi nel modo più terra terra possibile se non avete capito non so cosa dire continuiamo a guardare il video come hai fatto zio però a inserire tutta sta roba nel case di un ipod classic cioè ciao poveramente sei anche un ingegnere il raspberry pi collegato ad un pin out collegato a sua volta a questo dispositivo che non ho idea di cosa cazzo sia onestamente non lo so però qua c'è collegato il monitor suppongo sia un dispositivo responsabile del segnale video però non lo so non ne sono sicuro ok qua ci sta installando una distro di linux guardate quanto è piccolo cioè di base su questo ipod ok che c'è spotify ma c'è linux sostanzialmente gira tutto intorno a linux in questi progetti quando tu riesci ad installare una distro di linux all'interno del tuo dispositivo dopo puoi farci quello che vuoi forse anche installarci spotify e qua è la parte in cui inserisce tutto all'interno del case ah l'ha scritto lui il software eh esattamente perché mi stavo chiedendo lui per interagire col sistema operativo utilizza la ghiera dell'ipod però non è una tastiera cioè servirà un driver fatto apposta per far riconoscere la ghiera di un ipod touch come periferica ad un raspberry pi e questo software l'ha scritto lui da zero quindi veramente rispetto bro fantastico fantastico questa sensazione ce l'ho io adesso un po' perché mi sono distratto un po' perché non prendo in mano questo lato dell'informatica veramente da tanti anni non mi dire che l'hai scritta tu l'ha scritta lui avete presente quando all'inizio del video ho detto facciamo uno anche noi rimangio quello che ho detto per il momento che rottura di no non dico rottura di p***a che ovviamente per un programmatore non so se avete capito esattamente quanta fatica c'è stata dietro a questo progetto lui l'ha fatto sembrare molto facile e invece è stata una cosa complicatissima ha dovuto praticamente costruirsi dal quasi zero tutto l'hardware e tutto il software cioè l'hardware non l'hardware l'ho costruito fisicamente però comunque ha dovuto servirsi di molti pezzi hardware distinti che poi ha dovuto unire con tanto di saldature far stare tutto in un case molto piccolo peraltro un case dell'ipod touch prodotto apple non sono proprio famosi per dare molto spazio all'interno e poi ha dovuto scriversi un sacco di software da zero interpretando comportamenti di un dispositivo vecchio di vent'anni fa quindi caro mio sia tu che hai fatto questo video sia tu che mi hai consigliato di guardare questo video io ringrazio veramente entrambi perché a me questi progetti fanno impazzire questa idea mi è piaciuta veramente tanto e mi è piaciuto soprattutto vederla realizzata un ipod classic che è in grado di streamare spotify al 100% tramite internet senza brani locali è un capolavoro chi come me apprezza queste cose lo può capire io vi lascio ovviamente il link del video di questo ragazzo in descrizione oltre alla pagina del suo blog che ha citato nel video che spiega il tutto in modo più approfondito fatemi sapere comunque qui sotto nei commenti se voleste che io provassi a imbarcarmi in qualcuno di questi progetti magari un po' più semplice perché comunque non è il mio campo non mi attribuisco assolutamente i meriti che non ho e sono abbastanza beginner nabbo neofita con questo mondo ad ogni modo ragazzi se questo video vi è piaciuto fatemelo sapere lasciando un bel pollice in su che mi renderebbe veramente felice seguitemi su tutti i miei social network come sempre il link ve lo lascio qua sotto giù in descrizione cliccando a quei lati potete raggiungere altri miei due video e invece cliccando qua al centro vi iscrivete al mio canale se lo fatti siete dei grandi io vi mando un grande saluto e noi ci rivediamo in un prossimo video vi iscrivete al mio canale